Sempre il calcio perché il giovane attaccante crociato classe 2005 Giacomo Marconi che nelle scorse settimane ha lavorato in gruppo con il gruppo di Maresca in ritiro. Ieri è debuttato in nazionale Under 17 nell'amichevole vinta dagli azzurri a Lecco contro la Svizzera per 3-0. Marconi schierato titolare dal commissario tecnico Bernardo Corradi, ex attaccante del Parma, tra l'altro ha giocato 70 minuti, non ha segnato ma ha giocato una buonissima gara.